I sintomi più frequenti e più evidenti sono normalmente il cardiopalmo, cioè la sensazione del battito tachiaritmico, tachicardico e disordinato del cuore, la facile affaticabilità e la mancanza di respiro. Ma come ho detto prima, questi sintomi possono anche non esistere, soprattutto dopo una certa età, e la fibrillazione atriale può manifestarsi senza grossi sintomi.